Con questa trasmissione chiudiamo il ciclo dedicato allo studio dei fenomeni sovrannaturali. Come avete visto la Bibbia indica una strada, ha delle parole molto precise, molto sicure e tutto quello che non è conforme a queste parole, almeno per chi crede nella Bibbia, dovrebbe essere evitato, che si tratti di spiritismo, di apparizioni, di fenomeni appunto strani, perché potrebbe esserci un rischio, il rischio spirituale. Magari queste apparizioni potrebbero venire a noi sotto forma di angeli di luce e poi invece nascondere del veleno tremendo. Ecco perché ho più volte detto che la Bibbia ha una parola sicura da darci e tutto quello che non è coerente con questa parola non siamo tenuti a crederlo. Ebbene Gesù stesso parlando del suo ritorno non ha messo tanto l'accento sui segni del suo ritorno, i terremoti, le guerre, le devastazioni su cui hanno speculato nel corso dei secoli centinaia di persone, di credenti anche in buona fede, ma egli ha messo l'accento su un evento che si sarebbe verificato poco prima del suo ritorno, quello della prolificazione dei falsi Cristi e dei falsi Messia. I falsi Cristi e i falsi Messia ci sono stati da quando Cristo è apparso sulla terra logicamente, ma egli ci ha invitato a credere, leggendo il Vangelo di Matteo, che prima del suo ritorno proprio questi falsi Cristi e questi falsi profeti sarebbero apparsi in gran numero e avrebbero sviato molte persone. Quindi nelle puntate precedenti abbiamo parlato di apparizioni mariane, ufologiche, spiritiche eccetera eccetera, adesso parliamo proprio di apparizioni del Cristo stesso. Possibile che il grande regista, che l'angelo malvagio per eccellenza, possa anche mascherarsi da Cristo per ingannarci? Nel mio studio sui fenomeni sovrannaturali ho più volte incontrato medium che hanno affermato di essere in comunicazione con Cristo Gesù, eppure nella Bibbia è scritto che questo metodo di comunicazione con Cristo non è assolutamente sicuro, anzi è proibito, ma lo affermano. Allora il Cristo che appare in quelle sedute spiritiche, quale Cristo è? Egli ci dice, il Gesù del Vangelo, fate attenzione, non lasciatevi ingannare da nessuno, perché molti verranno e cercheranno di ingannare molta gente, si presenteranno con il mio nome. Quindi potrebbe apparire qualcuno e dirci io sono il Cristo e se non conosciamo le parole del Cristo, della Bibbia, del Vangelo, potremmo essere facilmente ingannati da questa apparizione. Io sono il Messia. Bene, in questo preciso momento storico moltissimi aspettano il Messia. Le tradizioni nordiche aspettano Balder, le tradizioni zoroastriane aspettano il Sao Shant, perfino il buddismo che è una cultura refrattaria, le speculazioni diciamo così mistiche aspettano, in quell'ambito aspettano l'apparizione del Maitreya e come vedremo più avanti altre culture aspettano un Messia che dovrebbe apparire. Eppure Gesù ancora una volta ci dice, vi diranno il Messia è nel deserto, voi non andateci. Se vi diranno il Messia è nascosto qui o è nascosto là, non fidatevi perché come il lampo improvvisamente guizza da una parte all'altra del cielo, così verrà il figlio dell'uomo. Quando Cristo verrà sulla terra sarà riconoscibilissimo perché sarà un evento mondiale eclatante. Quindi se vi dicono che il Cristo è apparso in Kenya, è apparso in Cina, è apparso in Inghilterra o dove volete, non credeteci. Quando il Cristo appare tutti lo vedranno. E adesso vediamo che cosa dice la Bibbia del ritorno di Gesù. Ecco, quando i discepoli si vedono togliere il Cristo risorto dopo 40 giorni che ha camminato con loro, alcuni angeli lì presenti dicono non dovete aver paura perché il Cristo che vedete ora salire al cielo lo rivedrete tornare, così come lo avete visto andare in cielo. Quindi vedete il fenomeno del ritorno del Messia sarà un fenomeno eclatante, maestoso. E Apocalisse aggiunge, nel libro dell'Apocalisse, attenzione, vedranno tutti il Cristo tornare dalle nubi del cielo. Quindi non apparirà in forma privata a qualcuno in particolare, Cristo apparirà a tutti venendo in forma maestosa. Parlavamo prima di ambiti religiosi in cui si aspetta la venuta del Messia e quale ambito crede più al Messia se non quello ebraico. Ebbene, in questo testo che ho tratto dal libro di Emmanuel Shochet, intitolato proprio Il Messia, vedete, è riassunto il credo riguardo al Messia di Israele. Ogni ebreo deve credere che il Mascia, cioè il Messia, arriverà a restaurare il regno del re Davide nella sua condizione originaria di autorità e a ricostruire il Santo Tempio di Gerusalemme a radunare i dispersi di Israele. Si crede che il Messia dovrà tornare, o meglio, per gli ebrei dovrà arrivare la prima volta e per i cristiani che tornerà una seconda volta. E vediamo ancora qualcosa a riguardo di un tema che abbiamo appena lasciato alle spalle, quello dell'ufologia. Anche in ambito ufologico si attende un Messia. Per esempio, coloro che aderiscono al circolo medianico della pace di Berlino ci hanno informati che c'è un certo Ashtar Sheran, il comandante delle milizie cosmiche, una specie di Cristo che dovrà venire sulla Terra. Ma anche, per esempio, i raeliani, coloro che credono a Claude Vorillon e ai suoi Elohim, stanno aspettando una specie di Messia che dovrà arrivare sulla Terra. Anzi, sembra di poter leggere sui loro libri che questo Messia sia proprio rael. E infatti questi extraterrestri, queste entità, avrebbero detto, lo leggiamo su uno dei libri che rael ha scritto, che lo Stato di Israele dovrebbe donare un territorio proprio agli Elohim e a rael, vicino a Gerusalemme, perché da lì partirà la missione di questa guida delle guide, cioè di questo Messia cosmico. Lì dovrebbe nascere la residenza e l'ambasciata degli Elohim, di questi extraterrestri che dovranno un giorno tornare sulla Terra. I tempi sono venuti, il popolo di Israele, di costruire una nuova Gerusalemme come era stato previsto e Claude Raël è colui che era stato annunciato. Rileggete i vostri scritti. Quindi questo Claude Raël sarebbe il Messia che era stato annunciato. Gesù, abbiamo visto all'inizio, ci dice non credeteci. Passiamo ad un altro ambito, quello della teosofia. La signora che ha seguito le idee della teosofia della fondatrice Blavatsky, Alice Bailey, in un libro intitolato proprio Il ritorno del Cristo, scrive quanto segue. Dopo attento esame della situazione mondiale, possiamo ritenere che il momento presente sia l'unico nel suo genere sotto diversi aspetti e che al Cristo si presenti un'opportunità eccezionale. Questa signora dice adesso è il momento del ritorno del Cristo. Poi in una parte del suo libro ancora aggiunge il Cristo potrebbe venire di persona in mezzo a noi come già fece. Sembra di sentire ecchi biblici, ma Gesù dice non ci credete. Questo è il rischio spirituale. Sembrano angeli, sembrano parole della Bibbia, ma si discostano dalla Bibbia stessa. Si stanno preparando i piani per rendere possibile questo ritorno. E ancora la signora Bailey annuncia la venuta di questo Cristo, che dovrebbe essere il famoso Maitreya delle tradizioni buddiste hindù. Il Buddha sorridente deve tornare in mezzo alle moltitudini, svolgere la propria parte nelle vicende del mondo e dimostrare la vastità della sua missione. Conclude, riunirà attorno a sé, in incarnazione fisica, collaboratori e consiglieri scelti. Quindi questo Cristo dovrebbe camminare sulla terra, fondare una specie di ONU e raccogliere dei collaboratori per predicare di nuovo il suo messaggio. Ecco questo Cristo che appare, che cammina sulla terra. Il Messia verrà in Israele per gli ebrei, per gli ufologi scenderà in Israele, per la signora Bailey. Appare un po' dappertutto, ma vedrete che anche lì si chiederà ad Israele di ospitare questo Messia. E continuando a parlare di ambiti a noi abbastanza distanti, approdiamo sulle sponde della filosofia di Sai Baba. In questo libro il signor Giancarlo Rosati di Sai Baba dice una cosa molto precisa e molto forte. Dice, accogliere il Cristo cosmico oggi significa accogliere di nuovo Gesù. Quindi parla di un Gesù che torna, come dice la Bibbia. Ma aggiunge, la nostra esperienza ci porterà a riconoscere in Sai Baba il Cristo. E allora respingere Sai Baba significa respingere Cristo. Ecco qui, il Cristo è tornato, è Sai Baba. Se voi lo respingete, state respingendo Cristo. Quindi sarebbe apparso nel deserto da qualche parte, ma Gesù diceva se vi diranno è apparso qui, è apparso là, non ci credete perché sapete come dovrà tornare il Cristo. Andiamo avanti, passiamo ad un altro ambito, oggi molto conosciuto, molto di moda, quello dei munisti che fanno capo al reverendo Moon, coloro che hanno in qualche modo permesso a Monsignor Milingo di sposarsi e di creare un caso mondiale. Ecco, proprio lui, Sam Myung Moon, un reverendo coreano, dice Massimo Introvigne, uno dei massimi esperti al mondo di sette nuove religioni, in questo libro che vedete in diapositiva. Ecco, in maniera precisa, in questo libro Massimo Introvigne dice che Moon in qualche modo scrive che la Bibbia è abbastanza difficile a comprendere, che ci vuole qualcuno che la spieghi meglio e sembra che Moon e la sua organizzazione oggi siano in grado più di chiunque altro di spiegare meglio la Bibbia, più di chiunque. E quindi sembra che lo Spirito Santo stia parlando per bocca di Sam Myung Moon, questo è quello che si legge sui loro libri. Massimo Introvigne dice una cosa ancora molto precisa che ricollega Moon agli ambienti spiritistici di cui abbiamo parlato in queste puntate precedenti. Egli dice che Moon si è messo in contatto con ambienti spiritistici americani tramite questi contatti e il reverendo ha incontrato uno dei più noti esperti americani di spiritismo, cioè Arthur Ford, al quale gli spiriti avrebbero successivamente comunicato che proprio lo Spirito Santo, come vi dicevo prima, oggi parla attraverso Moon più chiaramente, più completamente di quanto abbia fatto nel passato. Quindi attraverso l'esperienza medianica, attraverso lo spiritismo, un'entità ci dice Moon è il Cristo che stavate aspettando. Noi abbiamo già visto che lo spiritismo è in contrasto con la Bibbia, quindi questo Cristo che sarebbe Moon è un Cristo del quale il vero Gesù ci aveva messo in guardia. Se verranno sotto il mio nome non vi credete, non credeteci, perché molti verranno sotto il mio nome ma saranno falsi Cristi e falsi profeti. E in effetti Moon non dice di essere il Cristo tornato, non lo dice mai nei suoi libri, però fa capire in maniera diciamo sottile per chi ha orecchie per intendere diremmo noi che il Signore del Secondo Avvento, quindi il Cristo, sarebbe già apparso sulla terra. È un uomo che è nato in Corea tra il 1917 e il 1930 e guarda caso Moon è nato in Corea nel 1920. Quindi chi ha orecchie per intendere? Oda. Il Cristo è già tornato e sarebbe Moon. Cristo quello vero dice non credeteci. Torniamo alle apparizioni mariane anche in questo ambito senza offendere i miei fratelli cattolici assolutamente ma sappiamo che anche in ambito cattolico si è molto prudenti a riguardo di alcune apparizioni mariane. Lo stesso Monsignore Silio Tonini che abbiamo citato più volte ci ha autorizzato a pensare che alcune di queste apparizioni siano delle scemenze. Questa è la parola che ha esattamente usato. Quindi delle false apparizioni, delle entità che si mascherano da Madonna per poterci ingannare e anche in questo caso queste madonne di cui parleremo adesso a riguardo del ritorno del Messia dicono delle cose molto strane, in contraddizione con il messaggio biblico. Ecco una comunicazione data dalla Madonna a un certo Vincenzo negli anni 80. La fine dell'impero del male che porterà al trionfo del cuore immacolato di Maria è vicina. Siamo alla fine. State vivendo l'era pre-apocalittica. Quindi stiamo arrivando alla fine del mondo e quindi al ritorno del Cristo dice questa apparizione. Un'altra Madonna ad una suora di Borgo Piave a Latina, l'89, disse quanto segue. Queste sono tutte comunicazioni registrate che potete andare a leggere anche voi. Adesso che siamo arrivati alla fine dei tempi, quindi come vedete si insiste anche in questo ambito sulla fine dei tempi e sul ritorno del Messia alla fine dei tempi, alla Santa Madre di Dio è stato affidato questo compito, preparare l'avvento del Regno di Dio nel mondo. Maria sta preparando il mondo e i cuori a ricevere il Cristo che deve ritornare nella gloria e governare in mezzo agli uomini. Quindi Cristo dovrà apparire sulla terra e governare, un po' come dicevano Alice Bailey, gli UFO, gli ebrei eccetera eccetera. Un'altra veggente, Margherita Samper, negli anni 70 aveva ricevuto questa comunicazione. La venuta di Cristo sulla terra avverrà in questo modo. La luce fluirà direttamente dal cielo sulla terra, la nube di luce che trasporterebbe il Cristo si fermerà lassù nel cielo, continuerà a scendere dopo aver orbitato intorno alla terra, sì che tutti potranno vedere il Cristo. Egli scenderà prima in Israele, vedete anche qui le madonne ci autorizzano a pensare che Cristo apparirà in Israele e da lì governerà la terra e tutti lo seguiranno. Vedete come i messaggi tornano uguali a se stessi? Cristo che torna in Israele lì governerà la terra. Un'altra comunicazione mariana ci dice io camminerò, Cristo camminerà sulla terra come una volta, come quando camminava in Palestina. Arriverò fino all'estremo lembo della terra e tutti visiterò. Madre della vittoria che precede il mio ritorno, il mio trionfo, la mia venuta tra voi. Ecco c'è una costante che lega tutte queste comunicazioni di queste apparizioni particolari. Cristo appare sulla terra e vivrà sulla terra continuando a predicare il suo messaggio sulla terra come fece una volta con gli apostoli e i suoi uditori al tempo della sua prima venuta. Ebbene tutto questo, lo dico chiaramente, è in contrasto con quello che dice la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura dice che quando Cristo tornerà non metterà piede sulla terra e quindi non potrà apparire in nessun posto sulla terra. Ecco perché Gesù nel capitolo 24 di Matteo parlando del suo ritorno ha cura di dire più volte, quattro o cinque volte, attenzione ai falsi Cristi, ai falsi profeti che cercheranno di ingannarvi circa il mio ritorno, ma non sarà possibile se voi avrete nel cuore le mie parole, se avrete imparato ciò che dice la Bibbia a riguardo del mio ritorno. Cosa dice la Bibbia a riguardo del ritorno del Cristo, del vero ritorno del Cristo, del vero Messia? Vorrei sintetizzarlo con alcuni versetti della Sacra Scrittura appunto. Ecco abbiamo ascoltato dichiarazioni di alcuni presunti Messia che fanno riferimento anche al Vangelo, anche alla Bibbia spesso, ma la Bibbia in Atti capitolo 4 versetto 22 ci dice una cosa molto interessante. Gesù Cristo e nessun altro, quindi non Saibaba, non Maitreya, non Saoshant, non Ashtar Sheran, non Vorion o Rael, Gesù Cristo e nessun altro può darci la salvezza, infatti non esiste altro uomo al mondo al quale Dio abbia dato il potere di salvarci. Gesù Cristo è il Messia. E poi un altro testo molto chiaro ci fa capire che se anche venisse qualcuno a dirci sono il Messia, attenzione, infatti Paolo nell'Epistola ai Galati, capitolo 1 versetto 8, ci dice ma se anche noi, apostoli, un prete, un pastore, quindi una guida spirituale, un ministro di culto oppure addirittura un angelo dal cielo in una seduta spiritica, in una grotta, in un disco volante, vi annunziassero un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia anatema, cioè non credeteci. L'Evangelo è lì, è chiaro, se qualcuno utilizza il Vangelo per darci un altro messaggio non ricevetelo. Allora che cosa dice la Bibbia sul ritorno del Messia? Sintetizzo questo meraviglioso avvenimento, questo meraviglioso messaggio con uno scritto di Paolo l'Apostolo e gli scrive ai Tessalonicesi nella sua seconda lettera dice fratelli per ciò che riguarda il ritorno del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Vi raccomando una cosa e qui l'Apostolo Paolo in qualche modo emula il Cristo perché ci mette in guardia proprio da alcuni mistificatori e questa è la sua preoccupazione più grande. Non fatevi confondere le idee tanto facilmente, non mettetevi in agitazione se qualcuno vi dice che il giorno del Signore è ormai presente o afferma di averlo saputo per mezzo di qualche rivelazione come abbiamo visto in queste puntate. Non lasciatevi imbrogliare da nessuno. Paolo è chiaro, è esplicito. Poi continua e dice ancora più approfonditamente come ci ha insegnato il Signore io vi dico questo. Noi che siamo vivi, quando egli tornerà, non avremo nessun vantaggio su coloro che sono morti. Quindi immaginate il ritorno del Cristo che avviene in questo momento. Io sto parlando dietro una telecamera, ci sono degli amici che mi stanno filmando, ci siete voi che state vedendo questo filmato. Cristo torna in questo momento, noi siamo vivi. Paolo dice non avremo vantaggio su coloro che sono morti. Per quale motivo? Infatti in quel giorno quando Cristo tornerà sulla terra, noi sentiremo un ordine, la voce dell'Arcangelo e il suono della tromba di Dio. Il Signore scenderà dal cielo e allora quelli che sono morti credendo in Lui risorgeranno per primi. Quindi quando Cristo torna il primo effetto è far resuscitare tutti coloro che sono morti ma che hanno creduto in Lui. Poi aggiunge e conclude Paolo. Noi però che saremo ancora vivi quando torna il Cristo, verremo rapiti insieme con loro, insieme ai defunti, sulle nuvole ad incontrare il Signore nell'aria. Ecco il vero ritorno del Cristo. Cristo scende sulla terra, se fosse oggi noi saremmo vivi, i morti risorgerebbero e insieme a loro, noi viventi che abbiamo creduto in Cristo, saremo rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, altro che Israele, Palestina o Beisade o dove volete voi. Il Signore non metterà piede sulla terra quando tornerà ma accoglierà a sé tutti coloro che avranno creduto, viventi o morti. Ebbene il Vangelo è chiarissimo. Ecco perché Gesù aveva questa grande preoccupazione perché probabilmente questo grande regista di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, questo avversario di Dio, Satana stesso che sa manifestarsi agli uomini travestendosi da Angelo di Luce, proponendoci anche brani, spezzoni del Vangelo, quindi piccole lucine, ma mai la luce intera, mai la luce completa, non può ingannarci se noi invece attingeremo personalmente e copiosamente dalla unica verità, dalla unica vera luce che è la Sacra Scrittura. Lì è detto come possiamo difenderci da questi falsi Cristi e falsi profeti, da queste false apparizioni che pur parlando di Dio e di Bibbia, come vedete invece aggiustano tutto secondo i loro disegni malvagi. Questo è il rischio spirituale. Non lasciamoci ingannare da chi pur parlando di Bibbia e di Dio ci propone di seguirlo verso strade che porterebbero probabilmente molto lontano e il più delle volte sull'orlo di un precipizio. Se vogliamo sapere qualcosa di Dio andiamo direttamente ad abbevrarci alla fonte, apriamo la sua parola e lì in preghiera, con serenità, con umiltà, con l'aiuto dello Spirito Santo, questa guida invisibile, noi capiremo quello che è necessario capire. Tutto il resto è spazzatura. Non lasciatevi ingannare, così come aveva in cuore il Signore Gesù, come aveva in cuore l'Apostolo Paolo, vedendo questi tempi, i tempi del ritorno del Messia e il gran proliferare di falsi Cristi e falsi Messia. Non lasciatevi ingannare, il Messia verrà una sola volta e verrà nella maniera in cui dice la Sacra Scrittura. Tutto il resto non è credibile.